Sulle puntate analogiche, quindi quelle dei racconti anni 90, ero stato proprio con Andrea a Scirolo, avevamo raccontato con Chiglia Verde tutti i racconti anni 90, oggi siamo tornati qui, quindi qui era finita quella puntata, qui riparte questa di oggi, siamo solo a playlist delle strane robe, perché parliamo del monte, parliamo dei segreti del monte, parliamo dei misteri, dei racconti, insomma faremo un percorso con tanta gente che darà testimonianza. Comunque vado sarà un successo, lanciamo la sigla, è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Dopo l'avvistamento, è stato dopo. Di notte venendo qui, strozzata con il filo elettrico. Avanti si vada. Un nome celtico. Quindi questi hanno sparato. Ancora sotterranea. Questa moneta è un mistero. Che sorge sopra un cimitero di suore. Che spettacolo sta, sta ancora antica. E adesso entriamo con le chiavi. Guardami beh. Eh, che guardo io. A posto. E il Cicerone. Dentro di rifugio antiaereo di via Biraveli. Non mi guarda così. Ti guardo così. Che ti inquieto. Mi è emozionato perci. Ci troviamo qui in cima al monte, la chiesa di San Pietro e un altro accompagnatore. No, un altro. Questo è il primo. Il primo accompagnatore. Questa la tagli oppure? No, fatete. Questa ce la lascio. Basta con i Cicerone. Siamo qui in cima al monte, davanti alla chiesa di San Pietro. E il nostro primo accompagnatore è Maurizio Bilò. Il grande Maurizio. Eccoci qua. Ciao a tutti. Quindi passiamo la parola a lui. Sì, sì. Passiamo la parola di qua. Poi anche la parola di qua. Archeologo. Grazie. Sì, vabbè, archeologo, guida, un sacco di storie che non so annoiare. Appassionato dell'uomo, perché no? Storico locale, eccetera, eccetera. Siamo a San Pietro al Conero, come già Andrea vi diceva. È una chiesa meravigliosa che racconta tanta storia. Tanta storia che oggi condenseremo in pochissimo spazio. Se va facciate da poco più avanti questo via d'Alberato che vi introduce la chiesa, vedete il panorama da qua su, di tutto quanto il circondario. Non potrete che il monte è uno dei punti più alti della zona. Quindi è un punto di importanza per tanti aspetti. Geografico, ma soprattutto anche di riferimento per tutto il circondario. Quindi dall'età antica. Tutti facciano riferimento a questo monte, che forse è un monte anche sacro. E qui sopra, nei corse secoli, ci sono avvicinati una serie di tante frequenze umane. Dall'età preistorica e poi arrivare fino all'età medievale. Siamo all'anno 1000. Viene donata un apprezzamento in terra dei signori locali, probabilmente qualcuno identifica con i cortesi. Non si sa in realtà, comunque i signori donano a degli abati questa zona. E qui già esisteva una chiesa, quella di San Pietro, proprio questa qua. Non in questa veste, ma in veste più antica. Ne esisteva un'altra che non potremmo andare a vedere perché è in zona integrale. È quella di San Pietro che sta sotto e convivono insieme nel corso della storia. e si intrecciano la storia e andiamo dentro a vedere. Entriamo dentro. Esatto. Vai. C'è anche un matrimonio. Salutiamo gli allestimenti. Salutiamo, salutiamo. Paola che fuggia. Paola, vedo che sponsorizza. Paola fuggia, ma Paola la vediamo lo stesso. Attenzione, non vi inciampate perché avevo messo tutto sparsa. Senti, e dopo fammi i conti. Sì, 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 dopo ti mando la fattura io. No, lei vengo sempre malissimo. Allora, tutta addobbata. È lo stile del Romanico. Uno stile molto intimo, in penombra, di raccoglimento. Perché comunque questa è una chiesa eremitica, abbaziale, ma dedicata ovviamente alla vita monastica. Si alterano qui i Benedettini e i Camaldolisi. E qui vivono anche i personaggi di un certo livello. Arriva il Ginelli. Il Ginelli lo trovate poi nella San Ciria, con sepolto. Paolo Giustiniani, fondatore della riforma dei Camaldolisi. Insomma, è un punto di importanza abbastanza notevole. Raggiunge anche un certo livello di grandezza. Quello che vediamo oggi è una struttura che è stata restituita dai restauri, diciamo, del Novecento. Prima l'avremmo vista forse più barocca, con un aspetto un po' diverso. Ma quello che emerge è la bellezza della roccia, l'intimità. Ma i capitelli che vedete, che sono capitelli parlanti. Molti ripetono anche gli schemi vegetali, raffigurazione degli elementi vegetali che si trovano anche a Porto Nuovo, che è qui sotto. Se fate caso, trovate raffigurazioni di canne. Assumino un po' degli organi che suonano e fanno riferimento forse all'attività monastica di questo ambiente. Se prosegue ancora avanti, invece delle canne mosse dal vento, ma soprattutto compagno poi dei bellissimi capitelli, con raffigurazioni come questo. Qui trovate delle figure che sembrano quasi demoniache. In realtà sono figure di serpenti che si mordono la coda, che secondo la maggior parte degli autori locali sono rappresentazioni degli infari. Forse un monito per chi è che qui dentro si rifugiava. In realtà potrebbero anche essere valori molto simbolici. C'è un serpente che si mangiava ancora che si chiama l'Uroboro ed è il simbolo della rinascita. Quindi che si mangia in condivisione e che rinasce in condivisione. Guarda a caso qui dentro lo troviamo in veste ovviamente cristiana, non Cristo che risorge dalla morte. Così come altre figure, la sirena, anche questa vista sempre in maniera negativa. Perché come sapete dalle fonti antiche, la sirena è quella che ammaglia e tra gli inganni ai navigatori. Lo stesso vale per le api. Madonna è bellissima sta roba eh. Eh qui si arriva a parlarci, però non mi voglio annoiare. Questo è il bestiario si chiama no? Sì. Adesso va molto di mora a creare leggende. Io sono qui apposta. Invece in realtà basta soltanto sentire la gente, recuperare le fonti. Le leggende ce ne sono tante vere. A proposito di sirene, ieri sentivo un programma televisivo molto famoso. Ieri sera verso le 11 e compare a un certo punto alle due sorelle uno stregone, un dragone, una sirena. Queste sono leggende per una comunità che non c'è più niente da raccontare. In realtà noi ci abbiamo tanto da raccontare, no? Ci sono tante leggende già raccontate che andremo semplicemente conosciute e andremo poi rivautate. Senza inventarsi niente. Bella sta cosa, adesso me la faccio mia. Qua sopra, dopo l'abbandono dei Benedettini, arriva una comunità di Santa Maria di Gonzaga, che è una comunità di eremiti che dura pochissimo, pochissime, 60 anni circa. Viene da Mantua, fondata a seguito di un voto fatto da uno dei duca di Mantua. Viene qui, prende possesso grazie a quel ginelli di cui ti parlavo prima, mentre sotto abbiamo i camaldonesi. Insomma, nascono delle attriti, soprattutto sulla proprietà, per cui piace molto spesso raccontare questa storia, no? Del fatto che da qua sopra gli eremiti di Santa Maria di Gonzaga buttassero sassi o tronchi. Di sotto. Cercare, poi ci pensò praticamente, se vogliamo, la provvidenza, perché a un certo punto, nel 1558, la chiesa prende fuoco, scompare completamente il soffitto, gli eremiti di Santa Maria di Gonzaga vanno via, vengono qui, prendono possesso quelli che sono i camaldonesi, ricostruiscono tutto e allargano, non so se hai visto i vari viali, la parte dietro che oggi non vedremo perché è bueta privata, ma ricostruiscono tutto quanto il conflitto. Stiamo dalla cripta. Grazie. E' un po' di energia, le voci. Guarda, te purtroppo, Andrea, stai registrando, no? E' te. Tu che domanda? No, vabbè, io purtroppo... Non mi hanno fatto un po' di c***o. Sotti! Non parlare? No, no, non parlavo queste cose qui, perché è importante, no? Vabbè, vabbè, chieda. I capitali che trovate qui sotto, che rappresentano una cripta, in realtà è una cappellina, che adesso si fa nei matrimoni, dedicata alla Virgine, ma ha avuto anche funzioni, probabilmente, come cripta. In realtà c'è una grotticella, che è qua sotto, che io non ci passerò mai di... Che generalmente fanno riferire come un luogo di sepultura, se però, tornate dentro, è strettissima. Ma ricorda molto spesso questi piccoli antri, in cui, nel corso del Medioevo, si rifugiarono i primi monaci, ma anche, nel corso dei secchi successivi, in preghiera e in solitudine. Quindi non escludo che possa essere, in realtà, uno di questi antri, che poi è trasformato come luogo di culto, in quella chiesa antichissima, già c'era nel 1000, e guarda caso proprio sotto l'altare principale. Quindi potrebbe avere un uso completamente diverso da quello che generalmente si indica. Però, personalmente si indica come luogo di sepoltura. Ora, farceli entrare dentro le persone, mi sembra un po' arduo, però... Adesso ci provo, dai. Ci provo, anche te. Ci provo, dai. Aspetta, eh. Vado dietro del culo, vediamo se mi libera le spalle. Sto da parte dell'altro marzo, sai come cazzo. Ma chiudo da dietro, perché te la non mi ascolgo. Animo lungo, eh. Ci sei? È dietro la madonnina, eh? Come noti, l'ambiente è strettissimo, scavato completamente a mano, forse c'è un accenno, sembra quasi di una struttura per reggere una sorta di altarino. Ora, se per dire forse un ossagio, forse qualche altra estrenazione funeraria, ma è interessante forse notare l'attinenza con tante altre crovate. Invece sopra, ritorniamo ai capitelli. Valdiera, siete scemo. Ma provo a uscire. Provo a uscire. Mi devo mettere dettagli, ma sai, ecco. Attento alla testa. È usciti dalla cripta. Quello che può notare è la differenza fra i vari capitelli. Quelli più antichi, alla mia destra, e quelli più moderni. E questo è quello antico. Questa serie qui che vedi, quella con Rosone, per esempio, che secondo alcuni è un po' l'ortus concluso, cioè l'ambiente claustrale in cui erano chiuse questi monaci. Sicuramente l'antichità è superiore anche dalla presenza di alcune croci, è molto antico, è uno stile molto di ispirazione bizantina, e parla molto spesso a proposito dei templari. I templari qui non c'è documento, il concetto in cui ci sia sempre una croccessiva con i templari non vuol dire che ci siano per forza. Sono motivi che sono frequentissimi di tante, tante parti. Se c'era Giacomo avrebbe detto sicuramente il templario fa figo un bel po' che ti dà in ballo il templario. C'è qualcosa, il templario, che poi, non so, si fa voglia di fare i templari. Il templario fa figo. Quindi si facevano sistema bancario, usura, non so, non era proprio tipica come andai venisi, però, insomma, era un potere sicuramente. Cos'è che si vede qua dalla finestra? Questa è la parte che... Ah, quella privata, no? C'è tutto lo sviluppo delle celle dei monaci, si intravede il viale centrale con tutte quante una serie di strutture dedicate alla vita privata dei monaci, dove ognuno abitava in pochissimi, generalmente uno, massimo due, ma generalmente in maniera solitaria. Questa è una fase già comunitaria, prima c'è la fase remerica, in cui vivono preferibilmente in anfratti e luoghi. ritirato. Tra i capitelli che sono più rappresentativi, ce ne sono due che sono molto curiosi, uno è questo in cui c'è una situazione precisa, in cui sono due serpenti, delle colombe sottostanti, e un asinello, probabilmente un asinello selvatico, non ha lo narrato anche nelle scritture, che viene sottomesso dai due serpenti. Dall'altra parte invece trovi, di qua, gira, 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 che sono la situazione inversa, cioè l'asinello, buono buono, che schiaccia due serpenti. Ora, qualcuno ha visto come un insegnamento per i monaci, chi è che entra in chiesa, e chi è che esce da questa porta, perlomeno, vede, da una parte l'asino, che viene sottomesso, quindi magari, la trasposizione che si può dare, è il fedele, e l'eremita che viene sottomesso alle forze del male, il serpente. Dall'altra invece è il monaco, certo in veste di asinello, che non è poi il massimo, però in questo caso la figurazione è quella, che vince le forze del male. La musica non è in posizione vera. La musica non è mia, non l'ho pagato io, però crea l'ambientazione. Perfetto. Buongiorno. Ciao Marco. Tutto ok? Tutto bene. Se tu sei, facciamo qualcos'altro? Adesso ho venuto a salutare, così... Grazie. Eh infatti, noi perché ne approfittavamo per provare... Abbiamo fatto, abbiamo fatto, vi ringrazio anzi, di sottofondo è stata utilissima. Buon lavoro. Ciao ragazzi. Ciao, buona giornata. Sì, ciao. Marco, quindi esternamente alla chiesa è quello che vedi meglio è l'aspetto quello romanico, quindi quegli capelli classici che trovi anche a Porto Nuovo, ma anche in tanti altri esempi del romanico, ma vedi anche l'ingresso antico dal chiostro. Qui avremmo avuto quelle colonnine, capitelli che troviamo dentro, disposte qui intorno a chiudere questo spazio. Come tutti i portali romanici, anche questa è una serie di raffigurazioni che sono bellissime, tracce di vite, animali anche fantastici, ricorda un po' anche la decorazione di Santa Maria della Piazza, San Ciriaco, molto spesso sono animali esotici che sono reinterpretati in maniera cristiana. In più c'è un'iscrizione importantissima che parla di 1076, si viene citato tra i pochissimi documenti che rimangono di questa comunità, l'abate, che è il guberto, e Giovanni che è il preposito, cioè quello che amministrava, il priore che amministrava questa comunità. Purtroppo tutto nelle varie spropi, nelle varie cessioni di questo bellissimo ambiente, è nato disperso la biblioteca, è nato disperso l'archivio, quindi purtroppo si conosce pochissimo di quella della struttura, ma anche di chi viveva qua, magari. Allora, adesso entriamo proprio dentro il ristorante Monteconer Hotel. Dove stiamo andando? Stiamo andando a vedere il panorama. Me la vuoi dire? Dai, dimmela a te. Allora, ce la facciamo su una dei più bei panorami verso il sud, che è quello che dà verso i Sibillini, sotto la catena fino al Monte Agraanzasso e al Monte della Laga. Qua sotto, sotto le antenne, troveremo Sirolo, che non si vede, ma troviamo poi Camburan. Eh, André? Sì, sì, in dialetto, in dialetto. Pensate a Camburan, come si pronuncia, che ha un aspetto linguistico completamente diverso insieme al Poggio. Probabilmente, secondo alcuni, da verificare, addirittura erede dei dialetti gallici, del nord. Sirolo non si vede, dicevo prima. Perché non si vede? Perché è coperto da rilievo. Allora, cos'è interessante notare? Che molto spesso servivano dei punti in età medievale, ma anche in età più antica, che fossero intermediari tra i vari castelli. San Pietro rappresenta un punto importante di segnalazione per tutto ciò che riguarda per tutto ciò che riguarda gli altri castelli della zona. Quindi, Sirolo a sua volta poi trasmetteva il messaggio che arrivava dai vari punti di collegamento e viceversa riceveva i segnali da quassù e a Montecoro poi con quella che era la torre avvistamento dove c'era adesso l'area militare. Poi faceva passare il messaggio oltre, verso Porto Novo, verso Ancuna. Un po' alla Signoria degli Anelli, no? A Turchia. E poi funzionava proprio così, un sistema di comunicazione. Quindi era un punto fondamentale per tanti aspetti. Un panorama bellissimo ma questo panorama manca la parte più bella, Scirolo. Che Scirolo? Qui sotto non si vede. Quindi faccio pure gli auguri allo sposo, Damigelle e... No, lui non è lo sposo. Ah no. È testimone. È testimone. Non è lo sposo. Testimone e Damigelle varie. Buona festa. Grazie. E lasciamo un po' questo, anzi, questa ci introduce l'eremo di San Pietro ed è apposta su uno dei pilastri dell'entrata urinaria. le tante entrate a questa chiesa non possono passare le donne sotto pieni scomuni che ha parlato di sentenze. Cioè una sentenza già data, cioè senza ricorso di niente. Cosa vuol dire? Che ovviamente è un monitor per tutte le persone esterne alla comunità maschile di non poter entrare. Quindi entrare soltanto le tue persone ovviamente per motivi legati alla regola nessuna donna poteva entrare. Quindi Annalisa te non potevi entrare qui dentro. Adesso sei sfortunata. Aspetta, Annalisa, vieni qua. Vieni qua, Annalisa. ci ha raggiunto. Perché da archeologo passiamo a guida turistica, museologa. Annalisa ve la ricordate nella puntata del Museo Omero. Quella che tocca. E quella che tocca l'estate. E tra l'altro questa è la tua seconda comporzata ma ce ne sarà una terza perché con te faremo la puntata sul Van Vitelli. Attenzione, molto bene. Però non faremo spoiler un po' presenzialista. È un po' come pomodoro, Annalisa. non potevi entrare qui dentro. Almeno una volta. 1800 lo potevi entrare qui dentro. Non potevi mai entrare. Le donne fa tutto, è una roba veramente. È un problema grosso. Non ce le avevamo più dittorno. Va bene, ci troviamo qui a San Lorenzo alle spalle del nostro la nostra guida Sergio Voreccia. Grande Sergio, quindi passiamo la parola a lui. Sì. Ti sei stato uno dei protagonisti del salvataggio della Poto. la nave. Primo proprio no, perché il primo proprio era il guardiano che è un'altra sussa con la tempesta da neve e tutto quanto che ha avuto il coraggio suo. Era il 1962. La notte del 14 la mattina del 15 marzo. Il guardiano è il guardiano della cava. Sì, il guardiano della cava. Era un mercantile libanese che si è schiantato contro le sorelle. Quando il nostro uomo l'ha dichiarato lui che l'hiamo salvato che è in mezzo alle tavole così una volta la suoncima e un'altra volta il mare grosso scava e cava la tua sorella. E ha detto il comandante dice guardi che ci sento che la nave rolla. No, no. Guarda, che lo dà un proprio bella direzione buona. Dopo ho detto manco mezz'ora sentiamo questo grosso macello macello, 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 colpi di mare che ne ha addosso. Dove ne ha ammazzati subito sul colpo. Quell'altro è andato a me perché era la prova. Essendo la prova la prova è rimasta fuori, a galla. Invece il peso del motore quando è schiantato è andato a fondo. Quando sono andato giù a pandare a salvare quelli che c'erano e sono andato giù insieme a Sammy Cusino buonanime che è morto Fernando Barbadora siamo andati giù e l'hanno tirato in terra e il più vestito è venuto in terra come mutande. Quello del padre Terno non l'ha voluto ammazzare tutti perché ha trovato il guardiale e ha la stufa accesa. Cesare Barbadora d'inverno maglia da lana portava le mutande con la lana si è preso due corde per cui guardate i barattoli con la roba lì si è legato intorno alla panza ha preso l'acetta per andare a salvare il nostro uomo tra mezzo la tavola in mare in mezzo l'acqua poi ha tagliato la tavola ha detto tira tira e li abbiamo tirati in terra e li abbiamo salvati pure quello si 6 li abbiamo portati su 3 ne è morti 6 e 3 ne è 9 perché dopo il capitano si è ammazzato non ha fatto come cosa scacchino schettino e il fiolo era venuto in terra che li abbiamo portati in terra e ci aveva 6 altri perché era parte il fiolo capito papà 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 vieni 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 questo ha fatto ha fatto il segno della croce si è buttato tra l'acqua dopo 3 giorni l'hanno trovato fuori dal passetto da ancora a Galaglia e il giorno dopo siamo andati a piale e portali fuori prima di tutto siamo andati davvero in una bottega preso 4 fila di pane e dopo delle lunghe cuscite salsicce in una botte di una bianca che è una bianca ancora mia tra piazza e poi ma si è una lacrima? mi sa che già stiamo a come un po' tutti eppure c'è la lacrima ho fatto il panno metto queste salsicce in cima alla stufa quando hanno preso l'odore lavavo e cascavano tutti perché via da piangere perché quindi la morte è passata a mezzo i denti più di una volta hai capito? e poi fa adesso a raccontare non pare vero perché adesso siamo gran signori, siamo puretti siamo gran signori ma quella volta mamma mia! ecco il fiume vabbè Sergio andammo a fare un giro sul monte e portammo a Berto non so Sergio dove vuole andare aspetta presentammo Berto a questo punto allora l'altro Cicerone e guarda che terzo e Alberto Canori noi siamo in mano tua tu ti pare ci racconti un po' di storia un po' di robe la zona del Passo della Croce vabbè andammo lì perfetto in cima del Passo della Croce lì quello è chiamato il Passo della Croce perché la Croce non c'è stata mai la Croce non c'è stata mai attenzione queste dichiarazioni importanti eh c'è stato solo il palo beh sì e quello così perché scusa perché vedi lassù dove è il convento dove è la Rai lassù la Rai lassù c'era il convento da lì partiva il telefono militare e veniva giù al Passo del Lupo quello che era lassù e il Passo della Croce qua giù però lì c'era la Guardia giorno e notte allora veniva giù i telefoni le corde dei telefoni tanto è vero quando è finita la guerra un'arma di babbo siamo andati oltre a tagliare i cai per fare le morse le vacche non so se sapete cos'è le morse e i tiranti per caricare la roba io lo caro allora partiamo andiamo al Passo della Croce questa mattina sul monte sul monte Conoro ah conoro lo aggiungiamo perché i sirolesi basta di monte no 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 sul monte Conoro monte Conoro vabbè che è del Sirolo? non è da Alcona eh no la zona di Porto Nou è da Alcona è quella roba vostra si allora prima arriva a Porto Nou il mare su tutta l'acqua c'è il sasso della vila che quello sarebbe il confit tra Cirolo e Alcona non so se posso dei stronzo vergini si si puoi dire dai pescatori è chiamato lo scoglio madonna è stronzo vergine e perchè? perchè è fatto come la cacca ah si è la piramide si si è uguale te 40 40 preciso io sono al 40 30 ottobre Sergio grazie mille per la testimonianza sei stato veramente commovente ma non è finito qui no ci torniamo facciamo un'altra puntata i segreti di Sergio solo con te la facciamo queste le memorie storiche per queste bisogna tenesse si si infatti anche tutte le foto che ho dopo andremo anche lì a casa mia tutte quelle foto che ti ho fatto vedere si adesso le ho attaccate su tutte quindi ci avremo gli articoli della foto buttiamo dentro aperta la trasmissione l'abbiamo presentato già? l'abbiamo presentato l'abbiamo presentato l'abbè l'abbè allora questo questo sentiero qui prima era chiamato il passo del lupo adesso è stato cancellato questo si chiama il passo dalla croce la destra mi correggio così per adesso allora qui ci siamo stati quando ho fatto la puntata sulle cave e le fornaci del monte conero perché questa era la fornace doppia camera una delle più antiche no? però non so se hai fatto la zona delle cave e con questa qui non c'entra niente c'entra mai niente? no ma le puntate miele tutte così non c'entra mai niente ah beh se te considera che non c'è solo questa ma ci sono tante diverse per San Boscaglia e so tra le più antiche secondo me avrà almeno due o trecento lanta tutti i polegi qua quindi noi adesso rifaremo un giro con te rifaremo di nuovo rifaremo un giro ci mancherebbe non voglio annoia questa cosa qui dai no però su Monte Corno me ci porti quello volentieri facciamo una passeggiata su un po' più di trekking no? viene pure Andrea bene bene questo sentiero qui è una scorciatoia che porta solo alla grotta del Mortarolo tutti quegli eremitaggi che parlavo prima no? i primi monaci in età medievale in scompetta solitudine come San Benedetto in cui si può andare se non con l'autorizzazione però erano nascosti nella meditazione sono dei punti fondamentali poi ci andremo magari una volta no? si si ci andiamo con Andrea no? Andrea cosa dici? quando Andrea ha preparati per mesi ci andiamo giù facciamo un bel giro del conero come si deve se discorre il cuocito a parte alle 5.30 Marco eccolo eccolo vieni qua vieni a fare una ripresa qua c'è ma Massimiliano non tu è andato c'era una scrofa di cinghiale che doveva partoricolo aiutata con la placenta ha fatto vieni qua Marco qui cazzo qui sotto qua si ma inizi del passo della croce guarda giù le canoe che c'è qua giù sotto questa la spiaggia delle due sorelle si quella la è così guarda guarda vieni più avanti vieni arrivo è un attimo fa un passo avanti 3-4 metri Berto fa un passo avanti nooo quello va giù in fondo tutto il sentiero che parte da qui dal dal passo della croce va giù che porta la spiaggia delle due sorelle che però è chiuso è in pratica c'è il divieto diciamolo perché dalla parte di qua è una zona il parco l'ha messa come zona integrale questa è una spiaggia d'estate tanto affollate capito che per la spiaggia che c'è la gente ce n'è ancora troppa Andrea questa è la schiena d'Andrea però leva le ciambelle leva le ciambelle il cirolo il monte e noi passiamo qua da Berto dove sei Berto? allora Marco dimmi tutto qua siamo arrivati al pizzo della croce si e qui una volta c'era la croce ed è stata tolta vedi che veduta che c'è quasi sopra passa passa che ti scevo capito? vedi oggi oggi poi è la giornata meravigliosa la giornata meravigliosa vedi quanta gente c'è oggi dimmi dimmi scusi vieni qua vieni giù con me vieni qua dai qui non ci si può andare però vieni qua qua in cima dai eh qui già siamo un pari di metri in tel divieto eh no 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 vieni qua tienete qua dietro si ci mettiamo vieni qua ecco qui cominci al sentiero infatti vedi che c'ha ecco vedi c'ha le corde di sicurezza c'è la ferratina che scende giù perché il sentiero che parte giù per andare alle due sorelle e alla spiaggia Marco vorrei dimmi da capo questo è il moncone questo è il moncone che c'era piazzata la croce a metà monte quando c'erano i frati Capucini che scendevano giù alla grotta degli schiavi che adesso non esiste più c'era un masso grosso che era chiamato l'altare e ancora oggi la gente ne parla di questo coso però adesso non c'è cresciuto il bosco non si vede più capito ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho sto a fare un video aspetta così salutiamo anche le bimbe buongioro ciao ci hanno accompagnato io sono Rebecca ciao e Leonora perfetto ciao 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 ma Maurizio lo saluta mai grazie a te e Annalisa dove sei? entra dentro il bordeaux ma Annalisa non era presa Annalisa non era presa si è imbucata come al solito tanto la vedete spesso sui vostri schien si si questa non ha mai e promette di ricondividere il video del museo Amero è una stalker ormai mi sta stalkerando e niente non andiamo a mangiare vi salutiamo buon appetito ciao ciao bimbe ciao allora questi cos'è che mi ho detto che è? mandarini mandarini cinesi io ne mangio uno che fa la bocca? breccia e Annalisa sta a mandare a casa tua a vedere le fotografie te non volevi comparire poi alla fine sei compazio no dai per favore ma ti ci ho messo e qui siamo in camera da Andrea che c'ha tutta la mostra fotografica si l'ho attaccata su momentaneamente la mostra è dentro casa mia quindi c'ha gli avi che vegliano sul tuo sonno qui tutti scirolesi e qua tutto il paesaggio di Sirolo come era una volta e qua giù le famose foto che dicevamo del poto le foto del poto chi gioca oggi? la Juve a mezzogiorno e mezzo calcio minore si allora anzitutto qui aspetta eh si è Franco Lorenzini oh guarda cosa ho trovato un tenacca porto passione palloni cicerone passato anche quello c'è del Franco e anche questo aspetta si si ma questi ce li hai messi qui adesso no no non è una casualità fra colorezzini che salutiamo e qui mi fai vedere la foto del poto? si questo è un quadro riferito tutto al poto questo è il relitto della nave con i sirolesi che andavano a prenderli questa è Spiaggia Urbani dopo la mareggiata che ha portato tutti i famosi tronchi tutto il legno dalle due sorelle è arrivato fino a Spiaggia Urbani e questo è l'articolo del 2012 in cui sono stati premiati tutti coloro che erano andati a salvare i naufraghi e tra tutti c'è Sergio Breccia che avevo intervistato poco fa poco fa questa foto abbastanza inedita della grotta degli schiavi questa non l'ho vista mai in giro di foto questa è la famosa torre che è su a Monteconello dove adesso c'è il traliccio della Rai e da qui parte quel famoso cavo del telefono che Sergio prima ci diceva che arriva fino al passo della croce dove c'era questo ferro che teneva il cavo del telefono e quello sotto è il campanile vecchio questo è il vecchio campanile che era una torre e non c'era la parte sopra non c'era la cupola che sarebbe questa qui che sarebbe quella tra i tanti quadri ce ne so tre che ritraggono i camerieri e i titolari del ristorante della Rosa dove tra poco andremo a fare un leggero pranzetto andiamo a mangiare siamo entrati dentro l'arco che porta è questa? arco gotico questo è l'arco gotico di Sirolo e andiamo a pranzo adesso dentro il ristorante sotto all'arco della Rosa allora non vogliamo fare pubblicità perché comunque a Sirolo se sta bene ovunque se mangia bene ovunque città turistica quindi la gente va ovunque però dovendo uscire un posto non siamo venuti qui quindi non ce ne vogliate chiudiamo la puntata mangiando qui dentro al ristorante della Rosa che stiamo aspettando ha aperto che sta parcheggiando e arriva grazie a tutti 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 siamo tutti quindi maniamo o maniato? bevamo bevamo e il resto quanto finiamo qui finiamo qui la puntata e salutiamo a tutti ciao grazie grazie a tutti